Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento Meteo di Antenna 2. A partire dalla giornata di domenica avremo un profondo cambiamento del tempo, un cambio generale della circolazione atmosferica che porterà una prima perturbazione a partire dalla serata di domenica, che porterà le prime piogge fra domenica e lunedì e poi un secondo peggioramento ben più intenso a metà della settimana prossima. Infatti se vediamo l'animazione successiva un tempo spiccatamente instabile e a carattere invernale interesserà gran parte dell'Italia. Vedete una circolazione depressionaria che verrà alimentata direttamente d'aria molto fredda proveniente dal circolo polare artico porterà questo cambio radicale del tempo su tutta l'Italia con occasione anche sul nostro territorio, vedete, di nevicate fin verso bassa quota, quindi intorno ai 5-600 metri di altitudine, già a partire dalla giornata di martedì e probabilmente anche nella giornata di mercoledì. Mandiamo con ordine, vediamo l'evoluzione del tempo per la giornata di domani e domenica, che vede già al mattino nubi alternate a qualche locale schiarita, ma con una tendenza a un graduale peggioramento del tempo un po' su tutti i nostri settori orobici. Uno zero termico nelle ore centrale giornate intorno ai 1.500 metri di altitudine, vedete come dal pomeriggio e soprattutto dalla sera ho indicato le prime precipitazioni a interessare i settori più occidentali del nostro territorio in lenta propagazione su tutto il settore orientale. Avremo delle deboli nevicate in serata, oltre gli 800-1.100 metri di altitudine, dipendente appunto dalle zone del nostro territorio. In nottata le precipitazioni si intensificheranno e qualche fiocco di neve potrà cadere fin verso gli 800 metri di altitudine. Vediamo l'evoluzione del tempo per la settimana. Ecco, nel corso della giornata di lunedì questa perturbazione atlantica lentamente si allontanerà dal nostro territorio, cesseranno le precipitazioni, rimanendo però in un contesto di una certa variabilità, farà abbastanza fresco, vedete come le temperature si manterranno fra un grado di minima e 5 gradi di massima sull'alto piano di Clusone con uno zero termico intorno agli 800-1.000 metri di altitudine. Ecco che martedì saremo proprio raggiunti da questa circolazione depressionaria fredda che andrà a instaurarsi sul Mediterraneo. Ho indicato dalla serata anche del nevischio, anche sulla città di Clusone, in quanto le temperature appunto garantiranno la possibilità di qualche fiocco di neve anche fin verso la bassa quota, uno zero termico molto basso nelle ore centrale della giornata che si posizionerà intorno ai 500 metri di altitudine. Pressione atmosferica in calo a 995 millibar. Nella giornata di mercoledì ancora possibili deboli nevicate un po' diffuse sul nostro territorio fin verso i 300-400 metri di altitudine, temperature comprese fra i meno 2 gradi di minima e i 5 gradi di massima. Nel corso della giornata avremo un graduale miglioramento del tempo con l'accessazione dei fenomeni. Giovedì ho indicato una giornata in prevalenza nuvolosa e di stampo prettamente invernale con temperature davvero molto rigide un po' per tutta la giornata, comprese fra i meno 3 e meno 4 gradi di minima sull'alto piano di Clusone, massime che faticheranno andare oltre gli 0-2 gradi con uno zero termico intorno agli 800 metri di altitudine. Venerdì cambierà poco, avremo ancora una certa variabilità sul nostro territorio, e farà ancora molto freddo. Al primo mattino si potranno toccare punte di meno 4, anche meno 6 gradi nelle zone più fredde nel nostro territorio e massime ancora non superiori ai 2-3 gradi. Quindi prepariamoci a vivere veramente una prossima settimana di stampo prettamente invernale. Per il meteo è tutto, vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2.